Il CONAPO, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco di Teramo, torna a sollecitare la Regione Abruzzo a reintegrare i fondi tagliati alla campagna antincendio boschivo 2021. Fondi essenziali per garantire un'adeguata lotta attiva agli incendi boschivi. Rispetto all'anno scorso è stato tagliato un quarto delle risorse economiche, condizione che se non risolta nell'immediato potrebbe portare a conseguenze disastrose all'immenso patrimonio boschivo della provincia e dell'intera Regione Verde d'Europa. È stato fatto un incontro a livello regionale, c'è una convenzione regionale in atto che già è partita, dal 15 partirà anche le squadre di antincendio boschivo per la lotta attiva contro gli incendi boschivi. È stata fatta una riunione, ma siamo venuti a conoscenza che sono stati tagliati i fondi, sono stati tagliati quasi 180 mila euro rispetto all'anno scorso. Nonostante le emergenze avvenute sia in provincia dell'Aquila l'anno scorso sul monte Morone e sia in altre province negli anni precedenti. Questo è un danno che più che altro si ripercuote al nostro verde della Regione Abruzzo, di tutta la Regione. Quindi dopo ogni singola provincia si ritrova con le ripercussioni a livello operativo. Solo per fare un esempio, nella giornata di ieri abbiamo avuto solo in una provincia di Teramo in 12 ore oltre 13 interventi di soccorso tecnico urgente, tra cui molti incendi di serpagli, anche vasti. E questo diciamo che non deve ricadere sul sistema corpo nazionale di vigile fuoco, ma il cittadino deve sapere che i fondi tagliati dalla politica, dalle scelte politiche a livello regionale, portano a queste mancanze che purtroppo si ripercuotono per tutti. Quindi chiediamo da subito, sin da subito, che venga riattivato tutto il discorso di convenzione, venga rivisto, vengano trovati nuovi fondi perché il verde della Regione Abruzzo è uno dei più grandi in Europa e non ci possiamo permettere di distruggerlo così. Ci vuole prevenzione, ci vuole tutto un discorso dietro che non si deve arrivare a una situazione drammatica in un periodo che già con le temperature di oggi possiamo dire che siamo già in ritardo.